Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io, Onda Marina e oggi aprirò due bustine dei Pop&Shop la recensione della bustina ovviamente l'ho già fatta nel primo video apertura quindi non sto a farla di nuovo apriamo la prima bustina ok, abbiamo trovato una valigetta rossa con all'interno questi due Pop&Shop allora, questo qui che mi sembra una scarpetta e questo qui un vestitino sono molto carini all'interno ci sono i due mobiletti che sono bianchi e poi ci sono gli stickers da attaccare e questa è la checklist apriamo la seconda bustina la valigetta è rosa, molto chiaro all'interno abbiamo questo qui che è uno smalto mi sembra e questo è un tavolo con uno specchio dove ci si trucca insomma questo però non sono sicuro che sia uno smalto e all'interno ci sono anche i due mobiletti e gli stickers e la checklist e niente spero che il video vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao